Un vasto promontore anticiclonico interessa la parte occidentale dell'Europa e del Mediterraneo. Sull'Italia affluiscono correnti settentrionali fresche in quota che mantengono ancora una certa instabilità, specialmente in montagna. Domenica sera si avvicinerà un fronte freddo da nord che poi andrà a generare una depressione sul centro d'Italia tra lunedì e martedì. Per sabato prevediamo bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Sulla costa soffierà brezza, mentre sulle zone interne il caldo comincerà a farsi sentire e sarà leggermente affoso. Nel pomeriggio qualche nuvola in montagna e non è escluso anche qualche locale rovescio temporalesco. Temperature massime in pianura attorno ai 33 gradi, attorno ai 30-31 sulla costa. Domenica ancora bel tempo al mattino, con cielo in provenza sereno, forse qualche nuvola più in montagna. Poi dal pomeriggio in montagna sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale, specialmente direi più probabilmente nel tardo pomeriggio o verso sera. Poi nella sera e nella notte qualche temporale sarà possibile anche in pianura. Farà ancora caldo, con temperature massime attorno ai 33 gradi in pianura, mentre sulla costa soffierà brezza. Per lunedì l'evoluzione è ancora piuttosto incerta, ma probabilmente avremo nuvosità variabile con dei rovesci e temporali, piogge forse anche localmente abbondanti, specialmente nella prima parte della giornata, durante la notte e sulla fascia più orientale. Poi soffierà bora. Dall'Osservatorio Metrologico dell'ARPA, Livio Stefanotto. Grazie a tutti.